Una richiesta ufficiale, quella dell'associazione Non sei sola, Battipaglia, che ha rivolto l'invito a tutti i candidati a sindaco di impegnarsi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. Da anni l'associazione lavora attraverso lo sportello di ascolto, il supporto legale, psicologico e con le collaborazioni con gli istituti scolastici. Lo scopo è mettere in campo strategie concrete nelle politiche pubbliche. Non sei sola, Battipaglia ha perciò elaborato e consegnato agli aspiranti alla fascia tricolore un protocollo d'intesa con gli obiettivi da perseguire. Utilizzare e promuovere un linguaggio inclusivo, non discriminatorio e rispettoso delle differenze di genere. Promuovere la cultura di genere in termini di educazione e sensibilizzazione per superare le discriminazioni e stereotipi. Contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione di genere collaborando al sistema territoriale di prevenzione della violenza di genere e valorizzando le competenze di tutti i soggetti già impegnati sul tema al fine di promuovere politiche e azioni concrete, dirette a contrastare la violenza contro le donne. Fornire materiale informativo e documentazioni, testi di legge, tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità. Lavorare per l'istituzione di una consigliera alle pari età o di un assessore con delega specifica alle pari opportunità. Avviare i lavori in seno alla futura amministrazione per varare il primo bilancio di genere, documento che analizza e valuta le scelte politiche e gli impegni economico-finanziali di un'amministrazione in un'ottica di genere. Lo sportello antiviolenza è sempre attivo per info e è possibile chiamare il numero 327 89 19 439. Grazie per la visione!